Ciao carissime, nuovo progetto. Oggi realizziamo insieme il Lagurus, conosciuto anche come coda di lepre. È molto usato nelle composizioni sia di fiori freschi che di fiori secchi. Vengono utilizzati al naturale, in genere sono bianchi tendono al grigio, oppure colorati in tinta pastello o colori molto più accesi. Ecco come l'ho realizzato io all'uncinetto utilizzando il punto pelliccia. Ma prima di passare alla realizzazione, passiamo all'elenco del materiale. materiale occorrente. Lana rosa sfumata. Uncinetto numero 3. Uncinetto numero 12. Ago da lana. Una spazzola. Nastro di gutta perca bianco. Forbice. Un ferretto per il gambo da 1,2 mm. Passiamo al procedimento. Lana rosa e cominciamo con l'uncinetto numero 3. Capietto. E ora lavoriamo 26 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque e ventisei. Saltiamo la prima, entriamo nella successiva e lavoriamo la maglia bassa. E procediamo lavorando sempre a maglia bassa per tutta la riga. Una catenella e giriamo il lavoro. prendiamo l'uncinetto più grande, quello da 12 mm. Così, in questa posizione. E lo appoggiamo al lavoro. Ora passiamo il filo qui del lavoro dietro all'uncinetto. Così. L'uncinetto qui grande ci serve per dare spessore all'asola. Quindi ora con l'uncinetto, quello piccolo, entriamo nel punto e prendiamo il filo che abbiamo fatto passare dietro all'uncinetto grande e lo prendiamo. L'inizio è un po' più complicato, poi man mano che andiamo avanti vedrete che il lavoro scorre più facilmente. Ora ripassiamo nuovamente il filo dietro l'uncinetto grande. E nello stesso punto facciamo lo stesso lavoro. Quindi prendiamo il filo e lavoriamo una seconda maglia bassa. Così. Questo è solo per il primo punto, ne lavoriamo due insieme. Ora invece procediamo lavorando una maglia bassa su ogni maglia bassa per tutta la riga, facendo sempre questo lavoro. Il filo lo mandiamo dietro l'uncinetto grande, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, lo facciamo passare e lavoriamo la maglia bassa. Filo sull'uncinetto grande. Punto successivo, entriamo, prendiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Filo dietro l'uncinetto grande. Entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Filo sull'uncinetto grande. Filo sull'uncinetto grande. Entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Filo sull'uncinetto grande. Entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Filo dietro, punto successivo e lavoriamo la maglia bassa. Filo dietro l'uncinetto grande. Entriamo nel punto successivo e lavoriamo la maglia bassa. Filo sull'uncinetto grande. Entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Filo sull'uncinetto grande. Entriamo nel punto successivo e lavoriamo la maglia bassa. Filo sull'uncinetto grande. Entriamo nel punto successivo e lavoriamo la maglia bassa. Lo lavoriamo tutto insieme. Filo sull'uncinetto grande. Entriamo nel punto successivo e lavoriamo la maglia bassa. Non tirate il lavoro, lavorate morbido. Così. È più semplice. Poi cominciamo a abbassare un pochino perché l'uncinetto si dovrà riempire tutto. Se non avete questo uncinetto potete usare anche un pennarello di quelli grossi. Filo sull'uncinetto, punto successivo, prendo il filo e lavoro la maglia bassa. Filo sull'uncinetto, punto successivo, entro e lavoro la maglia bassa. Filo sull'uncinetto dietro. Entro nel punto successivo e lavoro la maglia bassa. Filo sull'uncinetto dietro. Entro, prendo il filo e lavoro la maglia bassa. Siamo quasi alla fine. Spostiamo un po' il lavoro in basso. Tanto qui c'è l'uncino quindi il lavoro non ci scappa. Nuovamente procediamo fino alla fine della riga. Filo sull'uncinetto, entro e lavoro la maglia bassa. Filo sull'uncinetto, entro e lavoro la maglia bassa. Filo sull'uncinetto, entro e lavoro la maglia bassa. Filo sull'uncinetto, entro e lavoro l'ultimo punto e lavoro la maglia bassa. Anche qui, in quest'ultimo punto, lavoro due punti pelliccia. Quindi il primo l'ho già fatto e ora faccio anche il secondo. tiro il filo e questo è il lavoro che ho realizzato. Taglio e faccio il nodo. Ora tiro fuori tutto il lavoro dall'uncinetto, così. E queste sono le parti. Ora, dove c'è qui, vedete la parte alta dove ci sono tutte queste asole, mettiamo il filo così. Poi prendiamo l'ago da lana e facciamo passare il filo nel lavoro. Perché questo non ci serve. Mentre il filo del lato opposto, quello dobbiamo tenerlo. Quindi, guardate bene, qui dove ci sono tutte le asole, quindi sceglierete il filo del lavoro da inserire qui. Mentre quest'altro lo teniamo. Prendiamo il ferretto per il gambo. L'altezza la decidete voi. Quindi, pieghiamo la punta così. Ora andiamo qui. Ricordate, qui ci sono tutte le asole, mentre nella parte sotto non ci sono. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo lato, dove non ci sono le asole. Entriamo nella parte sopra e lo facciamo uscire dalla parte sotto. Così. Poi con la pinza stringiamo bene. Così. L'importante è che stringete bene qua il lavoro, perché altrimenti vi si sfila tutto quanto. Vedete, così resta bloccato. Poi lo tenete un po' inclinato, così, in diagonale. Girate. E cominciamo ad arrotolare. Tenete bene la striscia e scendete. in modo che le asole, vedete, restano tutte sollevate. Così. controllate bene. Arrivata alla fine. Ora tenete bene qui alla base, perché altrimenti si disfa tutto il lavoro. e ora col dito spingiamo verso l'alto, circa questa altezza. Così. prendiamo bene in mano il lavoro, così, e cominciamo ad arrotolare il filo, tirando bene, per evitare che si sfila. così. Poi prendiamo la butta perca bianca. E qui alla base cominciamo ad arrotolare. così il filo rosa resterà bloccato dentro nel ferro e il lavoro resterà fissato. Ricopro tutto il gambo. A me servono belli alti, quindi ho utilizzato questo ferro alto 50 cm. Ok. Ora sollevo bene le asole. Ora prendiamo la forbice e tagliamo tutte le asole bene qui. Così. le sollevate in modo che restano belle dritte e poi tagliate. assicuratevi che siano tutte tagliate. Controllo bene. Ok. Tutte tagliate. Ora fate così. Appoggiate il lavoro sul tavolo. Prendete la spazzola, così, e cominciamo leggermente, con delicatezza e con pazienza, a pettinare. così. Pian piano questi filamenti si sfilacceranno, formando così un soffione. Ora con la forbice gli diamo una tagliata in modo da formare una punta qui, un gonfiore qui, la parte centrale, poi qui ritorna più stretto. Ok ho. ecco fatto vedete qui è più stretto qui si allarga e poi qui si restringe ecco come vedete io li ho realizzati nei vari colori per ora li ho inseriti in questo vaso che ho realizzato con le cannucce di carta poi invece li utilizzerò da inserire nelle composizioni se il progetto vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale youtube cliccando anche sulla campanellina così ogni volta che realizzerò un video riceverete una notifica grazie ancora per la compagnia un abbraccio ciao